Il capitano del latte Buongiorno a tutti, sono il capitano Vincenzo del latte per me è la prima esperienza qui in campagna devo dire che a vista della compagnia di Santa Maria Capoletere devo dire che non vedevo loro un po' di venire in campagna perché so che la campagna è una palestra fondamentale si dicono e non vedo loro di testarlo poi sulla mia pelle prima di comandare la compagnia di Santa Maria Capoletere ero a Catania, al nucleo investigativo dove mi sono occupato di indagini di criminalità organizzata e prima ancora a Milano quando ero in nucleo operativo della compagnia Milano invece appena terminata la scuola ufficiale ho fatto un transito all'administrativa come istruttore presso la scuola maresciale quindi vengo con il massimo entusiasmo ce la metteremo tutta per perseguire gli obiettivi istituzionali che hanno già ripetuto i miei colleghi e come dicevo il connel sono a disposizione sono a disposizione anche per le esigenze mediatiche e quindi da prossimo come avete avuto il modo di vedere